Cristian Dell'Orco, un pareggio dopo un'ottima prestazione anche a Savona oggi? Sì, abbiamo interpretato bene la partita, avevamo due modi diversi di giocare, loro giocavano più su palle lunghe, noi cercavamo di più di giocarla. Comunque siamo di svantaggio, anche giocando meglio il primo tempo, a mio parere. Siamo stati bravi a rimanere in partita, anche perché loro hanno sbagliato il rigore. Siamo stati bravi a rimanere in partita e alla fine siamo riusciti a riacciuffarla. Protagonista dell'Orco nel bene e nel male, ovvero protagonista perché da te è scaturito il gol del pareggio, il fallo del rigore e anche l'espulsione. Raccontaci soprattutto l'episodio del gol. Il gol è stato una mischia, io avevo la palla, ho soltato un uomo, l'ho messa verso il centro dell'area, cioè in scivolata perché non ci arrivavo più sulla palla, poi ci sono due o tre deviazioni, la palla è finita in rete e quindi va bene così, siamo riusciti a recuperarla così. Undici partite, una sola sconfitta nonostante molte assenze, soprattutto nel tuo reparto quello difensivo, quindi un gran carattere quello dei Leoni del Garda. Sì, siamo riusciti col gioco a superire le diverse assenze e quindi siamo riusciti in qualche modo a arrabattarci e non subire troppo le tante assenze. Grazie. Grazie.